Sono cominciate il 21 agosto le riprese del documentario storico-culturale sui castelli medievali in Europa e che prevede anche una tappa ad Andria, a Castel del Monte. Il documentario dal titolo Castelli edifici del potere verrà realizzato dalla TV pubblica tedesca. Tappa obbligata a Castel del Monte per una truppa tedesca che sta lavorando alla realizzazione di un documentario storico-culturale sui castelli medievali in Europa. Le riprese sono iniziate ieri 21 agosto e il documentario dal titolo Castelli edifici del potere verrà realizzato per la TV pubblica tedesca ZDF Arte composto di due parti, racconta le vicende storiche dei castelli e delle città in cui sono sorti sia in Germania sia nel resto d'Europa. La narrazione quindi riguarda anche il territorio al cui interno vi è il castello per Castel del Monte e come per gli altri la regista Sabine Bayer ha previsto le riprese anche della città e dei suoi dintorni. Siamo felici di questo rinnovato interesse dei media tedeschi per il nostro castello e la nostra città, fa sapere il vice sindaco Rosangelo Alaira che ha fornito anche il materiale documentale utile per il lavoro dell'equipe televisiva. Abbiamo dato subito la nostra collaborazione alla truppa che effettuerà le riprese dall'alto ricorrendo anche a un drone. Ancora una volta si accendono i riflettori internazionali sulla città grazie al Castel del Monte, aggiunge invece l'assessore al turismo Francesca Magliano. Ci auguriamo che sia di auspicio per l'ulteriore valorizzazione del legame fortissimo esistente tra la città, Castel del Monte e Federico II di Svevia. Dal documentario, ne siamo certi, conclude la Magliano, emergeranno non solo immagini bellissime ma anche ricostruzioni storicamente nette sul legame specialissimo del Puera Puglia e con Andria, la sua cattedrale con le tombe di due delle sue tre mogli e l'arco di Federico. Per questa via dunque la TV tedesca contribuirà ulteriormente alla valorizzazione storico-culturale di Andria come città indefettibilmente legata al maniero federiciano.